Tra i cinque libri della mia collana rossa, quella dedicata ai briganti d'Abruzzo, ce ne sono due che sono dedicati a due personaggi veramente straordinari e ne costituiscono la biografia. Il primo è Marco Sciarra, detto anche il re della campagna, così si definiva anche lui, si riteneva immiato da Dio in terra per combattere contro la pecunia oziosa, cioè contro i detentori della ricchezza che accumulavano senza distribuirla socialmente. Fu a contatto con papi e cardinali, condizionò alcuni conclavi con la sua presenza nella campagna romana dove dominò, era il capo dei capi del brigantaggio del Cinquecento, ebbe a che fare anche con Torquato Tasso. È un personaggio straordinario perché quando compiva le sue azioni, inseguito in mano da due eserciti, quello napoletano e quello papalino, aveva con sé all'inizio pochi muri, poi tantissimi, su molti dei quali accumulava la ricchezza che aveva rapinato nel corso delle sue imprese e sugli altri invece poneva quanto voleva distribuire ai poveri. E quando arrivava in un centro abitato, lui ha spaziato in tutto il centro Italia, si faceva fare dalle bande locali un elenco dei ricchi e un elenco dei poveri. Rapinava ai primi e donava agli altri. Morì un giorno sul colle della croce ad Ascoli, quando tornato dopo un'assenza lunga nelle sue terre, fu tradito dal suo braccio destro Battistello. Non potendolo prendere, i suoi nemici si erano serviti di lui e fu lui Battistello che colpì alla gola con il coltello Marco Sciarra uccidendolo. Giulio Pezzola, invece, era detto il principe del Borghetto, perché era nato a Borghetto a quei tempi, era il nome di Borgo Velino, un comune in provincia di Rieti. Anche lui fu un personaggio straordinario, il più noto brigante del Seicento, che però aveva una particolarità rispetto a Marco Sciarra, perché lui accettò anche un incarico, quello di fare la guerra ai briganti. Quindi fu un capo brigante, anche lui capo dei capi, ma cacciatore di briganti. Anche lui fu a contatto di tutti i potenti del suo tempo, aveva nel suo castello il suo punto di forza, il suo regno. Pensate che un giorno andò anche a Madrid, ricevuto dal re di Spagna, e si portò appresso un memoriale con tutte le sue imprese. È stato assai utile per costruire la sua biografia. Morì anziano, a 73 anni, molti anni per quei tempi, e morì perché alla fine fu imprigionato, fu rinchiuso a Castel dell'Ovo e nel tentativo di riguadagnare la libertà si calò con una corda, però la corda era troppo corta, e si sfracellò sugli scogli. Ecco, Marco Sciarra, re della campagna, Giulio Pezzola, il principe del Borghetto, due biografie per chi vuole conoscere da vicino due grandi briganti. Il più noto brigante del Cinquecento è il più noto brigante del Seicento.